Siamo qui vicini a queste famiglie che non devono essere lasciate sole perché quello che è accaduto a Padova con l'impugnazione da parte della Procura di atti che risalgono al 2017, cioè significa che bambini oggi che hanno 6 anni vengono lasciati senza mamma per decreto, è una crudeltà, è una disumanità inaccettabile. C'è un attacco sistematico della destra contro i diritti, dalla circolare piante dosi che impedisce ai sindaci di trascrivere i figli alla nascita, alla bocciatura del regolamento europeo sui figli, alla non adesione del governo Meloni alle leggi omotransfobiche di Orban che significa essere d'accordo con le leggi di Orban, insomma tutta una serie di iniziative che dimostrano che l'obiettivo di questa destra e di Giorgia Meloni è quello di attaccare e di discriminare le famiglie omogenitoriali e i loro figli. Siamo qui oggi per dire che non ci fermeremo e che non ci fermerete e che la vostra violenza istituzionale ci sfinisce e sfinisce queste famiglie, sfinisce questi bambini, sfinisce queste madri. La famiglia è l'amore, la famiglia è la cura, la famiglia non sono i genitali, non è un utero, non è niente di tutto questo.